Amici di Robots GT, aumentiamo le vuote rosa in collezione con Archie, della Takara. Confezione tipica dei prodotti Takara. Moltissimi accessori, compresi effect part e ben tre armi da fuoco, tre visi alternativi. Appare in modalità alternativa una macchina Cybertroniana, questa bellissima macchina futuristica, una macchinina tutta rosa e tutta panna, una macchina cabrio per sfrecciare tra lo spazio di Cybertron. Apprezzabili gli interni rifiniti con volante, pulsanti e sedili. Perfettamente in scala Masterpiece, lo vediamo a confronto con Inferno. Tutte le armi si possono montare anche in modalità alternativa per non lasciare nulla al caso. Abbiamo anche un rostro per sfondare le ruote dei nemici. La vera nota dolente è la parte inferiore, infatti essendo uno shell bot ha tutta la parte del backpack che si appoggia letteralmente su di essa. Peso piuma di 107 grammi, altezza di 17 centimetri. Il vero punto di forza di questo modello di Archie sono le numerosissime articolazioni degne di una vera e propria action figure, più che di un Transformers. Addirittura il Butterfly Joint. Numerosi punti di articolazione. Mani interamente articolate. Polso che ruota. Il movimento del busto è quello un po' più limitato essenzialmente dalla presenza dell'ingombrante backpack. Anche il movimento delle anche è limitato. Non può aprire più di tanto l'articolazione né in laterale né indietro. Molto bene anteriormente. Bellissima questa gimmick in cui puoi estrarre il visore dal casco. è necessario spostare il viso nella posizione più interna per completare il gap del visore. 3 visi intercambiabili con altrettante espressioni. Peg dedicato delle articolazioni per l'impugnatura delle armi. Peg dedicato delle articolazioni per l'impugnatura delle armi. e addirittura la fondina nel quale riporre la terza pistola. fornito di effetti di spari facilmente applicabili sulla punta di ogni singola arma. Arci è così. Le superfici sono rifinite al di sopra di ogni aspettativa. Non ci sono segni evidenti di sprue, di tagli, di segni di lavorazione. Superfici ben verniciati laddove presente in gran parte sulla modalità alternativa. Tutte le parti rosse e bianche della carrozzeria sono verniciate. in colore opaco. Molto belli anche i visi, anch'essi interamente verniciati. Bellissima la gimmick del visore che esce dal casco, così come in hot rod. Le articolazioni, vero punto di forza. Non abbiamo articolazioni pregiate. Abbiamo degli cricchetti solamente alle anche. Ma non se ne sente la necessità, visto il peso piuma del modello. Le articolazioni sono sempre all'altezza della situazione, mantengono la posa. e nonostante l'incombrante backpack, che comunque in primo momento dà dei dubbi sulla stabilità del modello, si riesce sempre a trovare il punto di equilibrio anche in pose molto audaci. La trasformazione è estremamente facile, lineare, a tratti gustosa. Non mette mai in difficoltà, unico punto critico, l'ultimo parte superiore del backpack in cui bisogna veramente andare a trovare l'incastro. Vero punto di forza di questo modello, quindi, le sue articolazioni. Con tutte le pose che è in grado di regalarci. Così, tutta armata, con quest'aria arrogante. Sembra quasi voler dire che in città è arrivato un nuovo sceriffo. Per questo video è tutto. Robots EGTV saluta, vi invita ad iscrivervi al canale, spuntare la campanella e mettere like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!